Siete tutti pronti? Allora possiamo cominciare. Sono arrivate da un posto molto simile all'inferno. Noi, soprattutto perché si parla d'amore. Una biancolella. Una biancolella di Ischia. Per la verifica, Sutrio. Allo storico Tukur, un formidabile materiale per capire. Io non mi permettevo di andare a dare. Così come se fossi proprio nessuno. Non erano dispiaciuti. Non ti ero così. Dove c'è scritto Juventus Centus per il centenario della Juventus. Con la speranza di evitare l'operazione. E il dolore è scomparso. E te micro touch. Gaetano, ma che meraviglia. Hai una perfetta... Argentiera due ante. Inglese. Di epoca tardo vittorio. Vedere... 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 Uno a uno, le nostre superfici da trattare. Allora, lei è... L'interno di queste migliaia di opere d'arte che in effetti si possono vedere anche solo andando al monumentale. Quindi... Eccezionale proposta... Eleganza uomo. Ma diecimila, centomila persone. Ci sono pensate in Italia milioni di materassi di quali... Questa è un'edizione straordinaria del TG E' facile, ma andiamo a vedere questo signore, il signor E poi i parenti Doria lo mandarono a Roma come ufficiato Giorgia, 32 anni Ti aiutati tu? Sì Nel momento in cui tu stai passando un brutto periodo economico Che vi serve ogni giorno per avere un look curato ed ordinato Non lasciatevi... E' nuovo, è ancora più completo Sì, oggi... Tutti qualche migliaio di euro D'altronde di questi tempi ci si sa anche accontentare Cifre a 5... Certamente sono una grande cosa, sono le cose che ci aiutano E' una persona Un appuntamento qui a Roma di quest'estate, com'è questa serata? Ecco, questa era la... Vieni, vieni Marina, vieni Allora, adesso cosa ci fate ascoltare? Do far così... O sta in affitto? Non in mia, stavo in affitto Ok, vediamo un po' se cambierai casa Queste storie non si può cancellarlo o far finta che non ci sia stata Certo Perché se... E' stata lei Bitter Sweet Life Dal 12 maggio al Cine Chiacchiere, prima i vostri nomi, mentre... E però... Quando è tornata a Sarosa Lo spirito santo Lo spirito santo è sempre Dio Il direttore generale della Juve adesso... Vediamo gli ultimi aggiornamenti Ti telefona un tuo amico e chiede che vuole essere ospitata a casa tua per alcuni giorni Ma tu hai il forte presentimento che questi giorni diventeranno dei mesi Come pensi di risolverli? Ma tu hai il forte?